Un saluto a tutti gli appassionati di Nero Verde Channel e a tutti i tifosi neroverdi. Ci siamo, la stagione 2015-2016 per la Castellanzese è ufficialmente iniziata. I ragazzi di Beppe Scandroglio, tra poco proprio qui alle mie spalle, scenderanno in campo per affrontare uno dei primi, primissimi allenamenti di questa nuova stagione. E qui accanto a me ho uno delle forze fresche, uno dei talenti appena arrivati in casa Nero Verde, Fabrizio Felice, al quale do il benvenuto da parte di tutto lo staff Nero Verde, da parte di tutta Nero Verde Channel. Ciao Fabrizio, benvenuto nella Castellanzese e benvenuti i nostri microfoni per questa tua prima volta. Buonasera a tutti. Ti chiedo subito Fabrizio, così entriamo nel vivo, stiamo per entrare nel vivo di questa bella stagione che ci aspetta, ma chiedo a te soprattutto quali sono le tue prime, primissime emozioni per questa nuova esperienza, per questa nuova sfida che ti sei posto. Sei arrivato alla Castellanzese da pochissimi giorni, sei uno dei rinforzi più importanti del mercato della Castellanzese di questa stagione e soprattutto sei il capo cannoniere dello scorso campionato, quindi grandi aspettative per te. Sì, ho delle grandi aspettative, ho accettato di venire alla Castellanzese soprattutto perché è una squadra molto organizzata, è una società che ci tiene, che vuole fare calcio, che ha tutto per far bene e speriamo che vada tutto bene. Io sono venuto qua apposta per fare gol, che è quello che faccio meglio. E ci auguriamo che sia davvero così. Hai detto giustamente Fabrizio, tu sei qui per fare gol, che è il tuo mestiere, è la cosa che ti riesce meglio, che ti riesce con più spontaneità. Proprio su questo voglio impostare la mia seconda domanda. L'anno scorso, nella passata stagione, quando tu eri dall'altra parte della barricata e hai dovuto affrontare la Castellanzese, la Castellanzese stessa ha avuto delle difficoltà in zona gol, nei momenti salienti magari della stagione o delle singole partite, quando servivano i gol facili, quando serviva banalmente buttarla dentro, non si riusciva a farlo e quindi mancava questo cinismo. Sei tu il possibile valore aggiunto davvero per dare la tua esperienza, per mettere al servizio della squadra davvero questo cinismo che ti ha consentito non a caso di diventare capocannoniere l'anno scorso? L'anno scorso mi è andata benissimo perché ho fatto 29 gol in 33 partite. Io spero di fare bene, ho anche 2-3, l'altro non lo conosco che è il 97, però ho Ghizzi e Cinotti vicino che sono due grandissimi giocatori che possono darmi una mano, io posso dare una mano a loro. Spero di fare benissimo ragazzi, sono qui per questo. Assolutamente sì e come ultima domanda Fabrizio hai accennato i tuoi compagni di squadra che ovviamente ti aiuteranno a fare i quanti più gol possibili per la tua nuova maglia che già adesso stai sfoggiando la casacca nero-verde. Come terza ed ultima domanda ti chiedo appunto di rivelarci un pochino come va questo periodo di conoscenza. Il gruppo è nuovo perché appunto sono arrivati in squadra tutti gli innesti, tutta la squadra che è stata costruita così bene come sempre dal nuovo direttore sportivo Palazzi e soprattutto dal direttore generale Salvatore Asmini, quindi so che vi state conoscendo, la conoscenza ovviamente è lunga, avete appena anche conosciuto il mister. Ti chiedo un attimino un tuo commento su questi primi primissimi giorni per questo nuovo gruppo che si sta formando. Ma allora diciamo che la maggior parte dei ragazzi che sono venuti qua li conoscevo quasi tutti, come Bertola, Ghizzi, Libralon, Cinotti e tanti altri. Alcuni non li conoscevo, tipo qualche giovane che era qui non lo conoscevo, però sembra un bel gruppo, possiamo fare molto bene, cercherò anche io, visto che sono uno dei più vecchi, tra virgolette, cercherò di trascinare il gruppo per quest'annata che ci darà grandi soddisfazioni, sono sicuro. Grazie mille Fabrizio per la tua disponibilità, io ti auguro tutto il meglio possibile per questa stagione, per questa annata, a te e ai tuoi compagni. In bocca al lupo grazie e ci vediamo in campo, ci vediamo in campionato. Grazie mille. Grazie a voi, ciao a tutti.